Aveva tre chili e mezzo di marijuana in valigio, la donna di origine nigeriana è arrestata nella notte tra l'11 e il 12 gennaio dai finanzieri della compagnia di Domodossola a bordo di un treno internazionale proveniente da Venezia diretto a Parigi. Le fiamme gialle hanno trovato la sostanza stupefacente nel trolley della passeggera, residente a Rieti, nascosta tra i vestiti, ben compattata e sigillata in quattro involucri, imbevuti di profumo e folvere di caffè nel tentativo di confondere il fiuto dell'unità cinofila. La donna ha negato di essere la proprietaria della valigia, ma l'osservazione delle immagini delle telecamere installate nella stazione centrale di Milano, dove la donna è salita sul treno, ha fugato qualsiasi dubbio. La nigeriana è in possesso di regolare permesso di soggiorno e di carta di identità, è stata arrestata e portata in carcere a Vercelli. È il primo arresto messo a segno per traffico di sostanze stupefacenti dai finanzieri di Domodossola, ma le modalità messe in atto dai trafficanti sono simili a quelle scoperte la scorsa estate. Stessa destinazione, Parigi, stessa modalità di confezionamento, stessa provenienza del corriere, residente anche in questo caso, presso un'associazione di assistenza per immigrati.